ah ma non volevi vedere, devo fare il film allora capite, capiamo l'italiano bravo Vincenzo Sculaccione, 7, 7 e un quarto del 18 novembre 2011 Bologna sempre avanti in stadio, viceversa su Cursale questa è quella del Ponte, la stazione Bologna sta per lavorare per avviare, sempre sempre avanti andiamo troppo lato, vedi che piani allunga le braccia, aspetti due ore Vincenzo allunga e buttati bene stai a misura bravo sempre che lì si impara è coperto però, no? hai le mani basse Vincenzo ma cazzo si fa? se stai a misura, hai le mani basse, prendi i pugni in pace cazzo, prendi i pugni in pace non vieni di stita ad alzare le mani da capone su le mani e rientra dopo sento contro il basso ferma, ferma l'azione non ha un cazzo di non ho capito che si fa? devi un tiro a ragionare un minimo picchi e ragioni un minimo è Vincenzo, cazzo cazzo che stai prendendo copriti, no? ti ricordi e poi rifai l'azione picchi senza ragionare cazzo, un bambino di una dai dai, prendi un cazzo buttati bene, abbassati le mani vado a parare bene i pugni fai gli due vado il risparso vado il sinistro 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 mutati con l'aneganza un minimo dai a misura ma trova il tempo e picchi quando pensi che sia non distinto dai sotto non tre ore e sulle mani bravo sotto e sopra No, di scazzo, bravo, tieni duro, tre secondi, dai, tieni duro, tre secondi, bravo, se ti lascia andare tre secondi.